Introduzione alla creazione di una startup. Prima di poter aprire una startup, ci sono diverse domande che devi porti proprio per definire il giusto modello di business che deciderai di implementare. Le risposte ti daranno un migliore senso dell'orientamento e ti aiuteranno a determinare l'approccio giusto. Ecco quindi gli aspetti cruciali che devi prendere in considerazione mentre decidi il tuo modello di business. Prima di proseguire alla scelta del modello di business, devi verificare se la tua idea ha effettivamente un potenziale mercato. Cerca il tuo mercato di riferimento per ottenere una portata dei tuoi possibili clienti e assicurati che ci sia un'esigenza che il tuo prodotto o servizio può soddisfare. Se troppe poche persone sono interessate a ciò che hai da offrire, o le persone non vogliono ciò che stai offrendo, è meglio tornare sui propri passi e fare qualche modifica. Quando vuoi stabilire un modello di business per entrare in un mercato specifico, è di vitale importanza capire con chi dovrai confrontarti, ovvero i tuoi futuri competitor. Controlla, tramite l'analisi dei competitor, quante persone stanno già facendo quello che vuoi fare e quanto successo stanno avendo. Quindi pensa a cosa puoi fare di meglio, come puoi aggiungere più valore, cosa farà risaltare la tua startup, quale business model stanno utilizzando i competitor. Avere un po' di concorrenza è in realtà una buona notizia. Dimostra che la tua idea ha valore e che c'è davvero una domanda per il tipo di prodotto che stai pianificando di creare. E potrebbe anche fornirti qualche spunto su come implementare il tuo modello di business, offrendone un nuovo tipo o ispirandoti a quello di successo della concorrenza. Tuttavia, è meglio evitare mercati saturi, in quanto può essere estremamente difficile e piuttosto costoso combattere per ogni singolo cliente. Anche se non sei ancora in pieno regime e non puoi fare affidamento sui dati, per stabilire il giusto modello di business, devi cercare di creare un'immagine del tuo cliente tipo. Pensa a chi esattamente che vuoi servire, ai loro dati demografici, gli interessi, i problemi principali che devono affrontare e i loro obiettivi. In questo può esserti d'aiuto la fase e il processo di Customer Discovery. Una volta che hai un'immagine più chiara di chi sono i tuoi potenziali clienti, è molto più facile capire come affrontare al meglio il tuo mercato di riferimento e con quale business moral farlo. La creazione di un avatar del cliente ti aiuterà anche a definire la tua brand strategy e scegliere i giusti canali e le strategie di marketing, nonché il tono di voce che utilizzerai quando cercherai di comunicare il tuo messaggio. L'idea innovativa che ti ha fatto decidere di avviare la tua startup sarà la tua principale fonte di entrate. Tuttavia, per decidere quale modello di business usare, dovresti anche considerare quali altre possibilità ci sono per aumentare le entrate. Ad esempio, potresti includere altri prodotti che puoi offrire come AppSele Coasao, o forse puoi aggiungere prodotti di affiliazione alle tue offerte e generare entrate aggiuntive attraverso le commissioni. Insomma, per definire il tuo modello di business, non concentrarti solo sulla vendita di un prodotto o servizio, esplora tutte le diverse opzioni e prova a guadagnare denaro da più flussi. Ricorda inoltre che non è necessario decidere tutto subito, puoi anche valutare di cambiare una volta che sei sul mercato. Un'altra domanda a cui devi rispondere quando scegli il tuo modello di business è la seguente. Quanto valore ottiene un potenziale cliente adottando la tua soluzione? Pensa in termini di impatto che avrà sulla loro vita. Li aiuta finalmente a risolvere un problema con cui hanno lottato per anni? Consentirà loro di avvicinarsi maggiormente al raggiungimento di un obiettivo? Se ti concentri solo su quale business model sarà più redditizio per te trascurando il cliente, non andrai molto lontano. I clienti sono la linfa vitale di ogni startup e i loro desideri e bisogni devono essere al centro di ogni tua attività. Comprendere i desideri dei tuoi clienti ti aiuterà a determinare il modo migliore per affrontare la vendita e quale prezzo saranno disposti a pagare. Si tratta semplicemente di capire quanto costa un problema specifico al tuo pubblico. E quanto sono disposti a pagare per trovare una soluzione. Punta sempre a dare un valore maggiore al prezzo che stai chiedendo. Se i clienti si sentono come se stessero ottenendo molto valore rispetto al loro investimento, la tua attività prospererà rapidamente e il tuo business model sarà di successo.